Buongiorno dal dottor Claudio Sarecino da Benessere Ipnosi Soluzione e praticamente oggi voglio parlarti di immaginare un momento se la gente si auto guarisse da sola se si guarisse da sola come fanno un po' gli animali in mezzo alla campagna, in mezzo alle foreste in mezzo alla giungla, si guariscono da soli come era l'uomo tanti tanti secoli fa tu immagina se qualcuno conoscesse le tecniche e le leggi secolari di autoguarigione che società sarebbe? sarebbe più felice sì o no? sarebbe più libera sì o no? sarebbe più sicura sì o no? oggi invece sembra per qualsiasi cosa anche per il cane, il gatto, una persona media debba andare dal veterinario, debba andare dal professionista non ha più fiducia neanche di dire do da mangiare al cane, il mangiare che i miei antenati i miei genitori davano ai loro cani perché si ha paura, paura, paura da chi è seminata questa paura, questo dubbio dai mass media, dai poteri forti che creano paura dalla mattina alla sera la famosa ipnosi di massa eh sì caro mio ipnosi di massa che ti causa tante di quelle paure da impedirti di metterti da solo di partire da aver paura del fallimento ad aver paura di sbagliare ad aver paura di non essere in grado di pensare a te stesso oppure ai tuoi animali domestici la paura che la tv da 40 anni a sta parte ultimamente internet bombarda dalla mattina alla sera anche durante la notte non è possibile trovare contenuti da leggere ad alta voce sullo schermo per cui per cui come fare per uscirsene scusami purtroppo come fare per uscirsene bisogna utilizzare dei sistemi tanto per cambiare un attimino la propria vita la propria vita eccetera eccetera scusatemi ma c'è un signore che ho conosciuto adesso ora quindi niente seguimi su tutti i social fammi tutte le domande del caso scusami mi stanno chiamando dalla regia vista la mia fanpage il prossimo di prossimo del dottor Claudio Saracino visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione del dottor Claudio Saracino e visita il mio profilo Instagram e Twitter benessere ipnosi soluzione dici essere dottor Claudio Saracino e scrivi perché se ti posso aiutare è gratis lo farò ok un bacio un abbraccio e al prossimo video del dottor Claudio Saracino